Ciao amico che aspettava questa occasione ovvero i Black Friday da almeno 10 mesi per risparmiare tanti soldi e acquistare quello che gli serviva. Oggi siamo qui riuniti non per vedere le migliori offerte ma quelle da cui dovreste stare alla larga. Ebbene sì, come tutte le più grandi promozioni non solo ci sono tantissime offerte di cui approfittare ma le snoccioliamo minuto per minuto sul mio canale telegramme di cui il link trovate qui sotto in descrizione ma ci sono anche tantissime offerte da acquistare alla larga perché o non risparmiate o addirittura il prezzo in offerta è più alto del prezzo precedente al periodo della promozione. Benvenuti sul mio canale io sono Toto e prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. L'unico vero modo che avete per supportarmi non solo coprirò tutte le più grosse giornate di promozioni di questa settimana del Black Friday o Black Friday Week come la chiama Amazon. Vi ricordo che da qua al 23 non ci sono grossi sconvolgimenti. La giornata del 25 sarà però ricca e succulenta di novità per cui ricordatevi di seguirmi sul canale telegramme per non perdervene neanche una e fatemi sapere se volete anche i video aggiornamenti qui sul canale. Scusate se ho il cellulare in mano ma ho già programmato tutti i post che usciranno in maniera certosina dalla mezzanotte in avanti ma iniziamo subito. La prima offerta da cui stare un po' alla larga o meglio su cui stare attenti e valutare eventualmente o altre alternative o altri store è senza ombra di dubbio quella sull'LG OLED B1 da 65 e da 77 pollici. Il primo infatti viene venduto in offerta almeno dalle comunicazioni che ci sono arrivate in anteprima a 1699 euro. Indovinate non c'è nessuno sconto perché già prima Black Friday come vedete alle schermate costava così. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda la versione da 77 pollici sempre dell'OLED B1 che costa 2799 euro in offerta ma in realtà è sempre stato quello il suo prezzo. Un po' più basso ovviamente rispetto al destino ma comunque non si allontana rispetto allo street price usuale. Attenzione a quello che vedete alle mie spalle non al televisore né all'illuminazione ma a robot del video che vedete alle mie spalle. Se in versione normale l'Ecovax T9 è decisamente allettante perché ha raggiunto un prezzo di 539 euro e ve lo consiglio proprio da amico ad amici attenzione alla versione dotata di base autosuotante. Infatti viene venduta in offerta sempre rispetto alla comunicazione che ci è arrivata ma come al solito verificate comunque perché i prezzi potrebbero subire variazioni o ulteriori bassi all'ultimo minuto. Beh l'offerta è di 699 euro e la cosa che fa ridere è che in questo preciso momento qualche ora prima che voi vediate il video la versione senza base autosuotante e quella con basato su tante vengono vendute a 649 euro quindi 50 euro in meno rispetto al prezzo dell'offerta che invece è 699 euro. Attenzione anche al Roborock S7 per carità il prezzo è molto allettante il dispositivo è sicuramente valido ma viene venduto in offerta a 499 euro. In questo momento c'è un coupon di 50 euro su un listino di 549 euro per cui è una finta offerta lo pagate comunque 499 euro. Molto buone quest'anno le offerte per quanto riguarda monitor periferiche pc con un'eccezione. Infatti c'è il monitor Predator Gaming G-Sync da 27 pollici in versione Full HD che viene proposto addirittura ad un prezzo superiore rispetto a quello prima del Black Friday. Infatti il prezzo comunicato c'è di 334,90 euro mentre in questo momento si può acquistare a 314 euro quindi 20 euro in più in offerta. Forse è meglio che ne state alla larga almeno in questo momento. Passiamo ai cellulari perché il tanto decantato nei gruppi di offerte Realme GT che attualmente è davvero in offerta viene venduta a 349 euro invece di 338 euro. Quindi siamo circa 15 euro in più rispetto allo street price non mi sembra un che secondo me ci sono altri dispositivi a quel prezzo da valutare tra cui l'ottimo OnePlus 8T che viene proposto a 399 euro in versione da 128 giga quindi comunque un cellulare da tenere sott'occhio. Infine attenzione alle cuffie con cancellazione attiva del rumore di Sony sia per quanto riguarda le cuffie normali sia per quanto riguarda gli auricolari true wireless. Le prime vengono infatti proposte in promozione a 299,90 euro. In realtà ci sono in questo momento degli usati warehouse deals in condizioni ottime quindi magari con confezione danneggiata ma in effetti il prodotto è nuovo a 236 euro. Quindi sono ben 64 euro in meno rispetto al prezzo in promozione con tutte le garanzie che comunque Amazon vi fornisce e bisogna valutare sempre se adesso Amazon avvia il 20 o 30% di sconto per quanto riguarda i prodotti e il warehouse deals. Nel caso fatemi sapere se volete un video dedicato a questa promozione e come ottenerla. Mentre per quanto riguarda gli auricolari true wireless di Sony ovvero i VF1000XM4 quelli di ultima generazione in offerta sono a 248,90 euro mentre il prezzo attuale è di 236 euro. Quindi parliamo di circa 12 euro in più rispetto al prezzo allo street price. Come potete vedere non tutte le offerte sono vere offerte. Il consiglio è quello di monitorare gruppi di cui vi fidate, gruppi che vi danno anche una storicità e che non pubblicano link solamente per farvi cliccare in modo da guadagnare e soprattutto utilizzare strumenti come Kipa o il Camelizer che sono dei tool che abbinati ad un web browser vi permettono di vedere la storicità dei prezzi e quindi di monitorare se effettivamente il prezzo proposto è un'offerta vera oppure no. Sono moltissimi casi come questi. Ovviamente io ve li ho segnalati per correttezza nel gruppo perché magari così vi tarate e sapete che invece di acquistare adesso magari aspettate dicembre e li trovate di nuovo al prezzo precedente. Per quanto riguarda questa Black Friday Week ultima nota durerà dal 19 al 29 ma alcune offerte si estendono fino al 5 dicembre quindi anche lì monitorate le variazioni dei vari canali come anche sul mio canale telegram in modo da essere certi di non fare un acquisto precipitoso bensì riflettere su quanto speso. Sempre attenzione iscrivetevi al canale se ancora lo aveste fatto e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao o forse meglio dire buonanotte.